16-27 giugno, Presidente, ormai ci siamo con i festeggiamenti? Ci siamo, siamo pronti o quasi pronti, stiamo montando, stiamo lavorando sul piazzale, prendendo il piazzale un po' alla volta per togliere i parcheggi ai cittadini a pezzi, quello che possiamo fare, lavoreremo sabato, domenica, alle sera proprio per evitare il disagio e qua voglio sempre ringraziare per la pazienza che hanno i cittadini d'Imperia. Siamo pronti, quest'anno sempre qualche piccola novità, avremo tanti soci che lavorano, gli impegni sono sempre di più perché è sempre più complicato, è sempre più difficile. Devo dire che quest'anno abbiamo apprezzato molto la collaborazione che c'è sempre stata, ma quest'anno è ancora più proficua con il Comune, con l'amministrazione d'Imperia, dove abbiamo anche prospettato di proporre...